da quando raffaella carrà non c'è più il famoso condominio di via nema 21 a roma non è più lo stesso la casa dove viveva la mitica showgirl venuto a mancare il 5 luglio 2021 adesso è in vendita nello stesso comprensorio composto da 15 palazzine di lusso con piscina e campi da tennis viveva anche gianni boncompagni storico compagno di vita di raffaella carrà raffaella ha trascorso gran parte della sua vita lì in quell'appartamento di lusso ora in vendita su uno dei principali siti di immobiliari che ne mostra ogni dettaglio l'abitazione si sviluppa su una superficie di 420 metri quadri più terrazzi e giardino dove si trovano campi da tennis ed un'enorme piscina l'appartamento di cui non si conosce il valore poiché in trattativa riservata comprende una grande zona giorno con salone di rappresentanza con un tavolo ornato in oro e vari salotti oltre ad un'ampia cucina e diverse sale da pranzo c'è persino un ascensore interno che conduce ad un box adibito ad uso stireria e lavanderia le camere da letto sono in tutto nove e quella padronale una suite con bagno lussuoso ed una sauna all'interno dell'appartamento anche una palestra